Ciao Tu sei? Sono Sandra e vengo dalla Lombardia Dai Smet Dai Ed ecco il provolone La crema al peperone Ci faccio una canzone Perché è la mia passione Adesso è la sua passione Per noi è il top La selezione continua Prova il Lombardo con provolone e Valpadana DOP E vota il tuo preferito McItaly, il gusto McDonald's, parla italiano